capitolo 32esimo che si riferisce specialmente a una notevole conversazione e ai notevoli atti ai quali diede origine londra finalmente esclamò nicola levandosi il soprabito e destando smike da un lungo sonno mi pareva di non arrivare più eppure abbiamo viaggiato a una bella velocità osservò il cocchiere guardando di sbieco nicola con una espressione poco soddisfatta sì lo so rispose nicola ma io avevo tanta ansia di arrivare che la strada mi è sembrata interminabile bene osservò il cocchiere se la strada aveva sembrata lunga con bestie come queste vuol dire che avete una gran fretta e dicendo così lasciò andare la frusta e toccò a dar forza alle sue parole i polpacci nudi d'un monello correvano attraverso le rumorose affaccendate gremite vie di londra che sfoggiavano in quel momento una lunga doppia fila di fanali accesi punteggiate qua e là dagli abbaglianti lumi delle farmacie e illuminate inoltre dai fasci di luce delle mostre delle botteghe dove si succedevano in ricca e abbagliante profusione gioiellerie scintillanti sete e velluti dai più vivi colori i cibi più prelibati e i più sontuosi oggetti di adornamento torrenti umani che sembravano finissero più continuavano a riversarsi senza posa urtandosi l'un l'altro estraripando appena sensibili alle ricchezze da cui erano circondati mentre veicoli d'ogni foggia e d'ogni dimensione frammischiati come in una massa mobile d'acqua corrente contribuivano con loro incessante strepito a gonfiare il rombo del trambusto e della confusione come passavano in corsa attraverso una gran varietà di oggetti ogni momento diversi era curioso osservare la strana successione di cose che si presentavano al loro occhio empori di splendide acconciature lì trasportate da tutte le regioni del globo attraenti mucchi di roba prelibata da stimolare soddisfar ogni appetito e dar nuovo gusto al festino troppo prolungato vasi d'oro e d'argento brunito lavorate in forme squisite di caraffe di piatti di bicchieri fucili spade pistole e congegni brevettati di distruzione viti e ferri per gli storpi corredi per i neonati droghe per i malati feretri per i morti camposanti per i feretri tutte queste varie cose l'una dopo l'altra o raggruppate strette in fascio sembravano trascorrere in una danza vario pinta come i fantastici gruppi del vecchio pittore olandese e con la stessa grave lezione per la folla irrepieta e indifferente né nella stessa folla mancavano oggetti che dessero nuovo risalto e significato alla varietà delle scene i cenci di uno squallido cantore di strada si agitavano sulla brillante luce che mostrava i tesori dell'orefice visi pallidi e aguzzi apparivano di qua dalle vetrine in cui s'ammucchiavano i cibi appetitosi occhi affamati vagavano su quella profusione difesa da una sottile fragile lastra che era per essi peggio d'un muro di ferro delle figure tremanti e seminude si arrestavano a contemplare gli scialli di cina e i tessuti aurei dell'india vera un battesimo presso il più grande costruttore di feretri e un addobbo di funerale sul frontone del più bel edificio la vita e la morte si davano la mano passavano insieme l'opulenza e l'inedia ma era londra la vecchia signora campagnola che da un paio di miglia prima di kingston aveva cacciato la testa fuori dalla diligenza gridando al conduttore che certo aveva oltrapassato la città ed egli aveva dimenticato di farla scendere era finalmente soddisfatta nicola fissò dei letti per lui e smike all'albergo dove la diligenza si fermò e corse senza l'indugio d'un momento all'alloggio di newman nox poiché l'ansia e l'impazienza che lo stimolavano erano aumentate di minuto in minuto e non avevano più freno ardeva il fuoco nella soffitta di newman e una candela era stata lasciata accesa il pavimento era stato accuratamente spazzato la stanza ordinata che meglio non si poteva e c'era sulla tavola da mangiare e da bere tutto indicava la cura affettuosa e l'attenzione di newman nox ma newman non c'era sapete a che ora tornerà a casa domandò nicola picchiando alla porta del vicino di newman oh signor johnson disse crowell presentandosi benvenuto caro che bella c'era non avrei mai creduto scusate lo interruppe nicola ho domandato e ardo di saperlo bene egli ha un monte di affari rispose crowell e non sarà di ritorno prima delle dodici non voleva uscire vi assicuro ma non ha potuto farne a meno però ha lasciato detto che dovevate rifocillarvi e che io dovevo farvi compagnia cosa che faccio molto volentieri in prova di tutta la sua buona volontà a sacrificarsi per la compagnia il signor crowell avvicinò una sedia alla tavola e prendendo un bel pezzo di carne fredda invitò nicola e smike a seguire il suo esempio deluso e irrequieto nicola non pote toccar cibo tanto che appena vide smike comodamente seduto a desinare se ne uscì nonostante molte dissuasioni a bocca piena da parte del signor crowell lasciando l'incarico a smike di trattener newman nel caso questi fosse tornato prima come la signorina lacrivi aveva previsto nicola si recò di filato a casa di lei trovando che era uscita discusse fra sé e se se dovesse correre a casa della madre e così comprometterla con rodolfo nickelby pienamente persuaso però che newman non lo avrebbe sollecitato a ritornare senza una forte ragione che esigesse la sua presenza a casa risolse di andarvi e si avviò in quella direzione a tutta velocità la signora nickelby non sarebbe tornata disse la fantesca prima di mezzanotte e forse anche più tardi la signorina nickelby stava bene in salute credeva ma non abitava a casa e vi andava molto di rado non sapeva dire dove stesse ma non era da madama mantalini di questo era certa col cuore che gli batteva violentemente e presentendo chissà quale disastro nicola tornò dove aveva lasciato smike newman non era ancora tornato e non si sarebbe visto fino a mezzanotte non vera alcuna probabilità in contrario non si poteva mandare a chiamarlo non fosse per un istante o fargli per venire un biglietto al quale potesse rispondere verbalmente impossibile perché non si trovava a golden square e probabilmente era stato spedito lontano per qualche commissione nicola provò di rimanere tranquillo dove si trovava ma si sentiva così nervoso ed eccitato che non poteva star seduto gli pareva non muovendosi di perdere tempo era un'assurda fantasia sapeva ma non si sentiva in grado di resisterle così si prese il cappello e di nuovo andò vagando per le vie questa volta prese la direzione opposta verso occidente battendo il suolo della città con passo frettoloso e in preda mille cattivi presentimenti e timori che non poteva vincere passò per high park in quell'ora silenzioso e deserto e accelerò l'andatura con la speranza di lasciarsi dietro tutti i cattivi pensieri ma questi gli si addensavano in testa più numerosi giacché non passava nulla che attirasse la sua attenzione e una sola idea sormontava tutte che fosse successa una disgrazia così grave da non aver nessuno il coraggio di scoprirgliela la domanda si levava continuamente che sarà mai nicola camminò tanto da stancarsi ma non fu più tranquillo e uscì da high park molto più perplesso e angustiato che non vi fosse entrato aveva dalla mattina assaggiato appena qualche boccone e si sentiva stremato mentre ritornava trascinando il passo verso il punto d'onde si era mosso lungo uno dei viali che corrono fra park lane e bond street trovandosi innanzi a un elegante albergo si fermò meccanicamente un luogo dove si spende molto credo pensò nicola ma un po di vino e qualche biscotto non rovinano nessuno dovunque si piglino eppure chissà fece ancora un po di passi ma guardò malinconicamente le due interminabili file di fanali a gas che si dilungavano innanzi a lui e pensando al tempo che gli sarebbe occorso per vederne il termine ed essendo inoltre di quella sorta di umore in cui uno è disposto a obbedire al suo primo impulso nicola sentendosi fortemente attratto dall'albergo parte per curiosità e parte da un misto di sentimenti che gli sarebbe stato incapace di definire tornò indietro ed entrò nella sala del caffè era una sala magnificamente arredata dalle pareti decorate della più bella tappezzeria e arricchite da una cornice dorata di elegante disegno il pavimento era coperto d'un morbido tappeto due grandi specchi l'uno sulla mensola del camino e l'altro all'estremità opposta della sala si stendevano dal pavimento al soffitto moltiplicando le altre bellezze e aggiungendo le proprie all'effetto generale c'era un gruppo piuttosto rumoroso di quattro signori in un tramezzo accanto al camino e soltanto altre due persone presenti entrambe attempate ed entrambe sole osservando tutto questo alla prima occhiata complessiva con cui un estraneo entra in un luogo che non gli è familiare nicola si sede in un tramezzo con le spalle al gruppo rumoroso e aspettando di poter ordinare una pinta di bordeaux quando il cameriere avesse finito di discutere con uno dei signori attempati intorno al prezzo d'un oggetto nella lista prese un giornale e cominciò a leggere non ne aveva ancora percorse venti righe che fu sorpreso dalla menzione del nome della sorella le parole che gli ferirono l'orecchio furono caterinella nickelby levò la testa stupito e in quell'atto vide nello specchio di fronte a lui due del gruppo alle spalle star ritti in piedi accanto al camino ha dovuto dirlo qualcuno di essi pensò nicola attese di dir qualche altra cosa con una fisionomia alquanto indignata perché il tono delle parole era stato tutt'altro che rispettoso e l'aspetto della persona che gli credeva avesse parlato gli apparve di una insolente brutalità quel tale come nicola osservò nella stessa occhiata allo specchio che gli aveva mostrato il viso stava con la schiena al fuoco in conversazione con un giovane che era in piedi voltava la schiena agli amici aveva il cappello in testa e si accomodava il colletto con l'aiuto dello specchio parlavano sottovoce di quando in quando scoppiando a ridere rumorosamente ma nicola non poté sentir più ripetere le parole né alcun suono che rassomigliasse alle parole che avevano attirato la sua attenzione finalmente i due signori in piedi si rimisero a sedere e ordinato dell'altro vino il gruppo fece più baccano con la sua allegria non ne venne più alcuna allusione a nessuno che nicola conoscesse tanto che questi si convinse che la sua fantasia eccitata o avesse immaginato di sana pianta le sillabe o convertito altre parole nel nome che gli stava così fisso in mente è notevole anche pensava nicola che se fosse stato caterina o caterina nickelby non me ne sarei tanto meravigliato ma caterinella nickelby il vino che gli veniva portato in quel momento gli impedì di finire la frase tracannò un bicchiere e riprese il giornale in quell'istante caterinella nickelby esclamò una voce dietro di lui avevo ragione mormorò nicola mentre gli cadeva di mano il giornale ed è la persona che immaginavo certamente non si poteva a brindare a lei col resto del vino diceva la voce le consacreremo il primo bicchiere della nuova bottiglia a caterinella nickelby a caterinella nickelby esclamarono gli altri tre e i bicchieri furono deposti vuoti vivamente sensibile al tono di quella leggera e irriverente menzione del nome della sorella in un luogo pubblico nicola s'accese a un tratto di sdegno ma con gran sforzo si mantenne calmo e neppure volse il capo civetta disse la stessa voce che aveva parlato prima è una vera nickelby una degna imitatrice del suo vecchio zio rodolfo recalcitra per rendersi più preziosa come lui nulla si può cavar mai da rodolfo se non gli si fa la corte allora il denaro sembra migliore e le condizioni sono più dure perché voi siete impaziente e lui no ah il birbante matricolato il birbante matricolato e che giarono due voci nicola soffersi indicibilmente nell'atto che i due signori attempati di fronte a lui si levavano l'uno dopo l'altro e se ne andavano perché tremava di perdere qualche frase di ciò che veniva detto ma in quel momento la conversazione tacque per essere ripresa con maggiore libertà dopo che quei due se ne furono andati temo diceva il signore più giovane che la vecchia sia diventata gelosa e l'abbia chiusa a catenaccio palola donole che così credo se esse litigano e caterinella se ne va a casa della madre tanto meglio diceva il primo potrà far tutto ciò che vorrò con la madre abboccherà tutto ciò che le dirò bel bacco e velo rispose l'altra voce povera diavola la risata fu raccolta dalle due voci che parlavano sempre in coro e divenne generale a spese della signora nickelby nicola ardeva ad una concentrazione di furore ma si dominò per quel momento e attese d'udire ancora ciò che udì non è necessario ripetere basterà il dire che a misura che il vino girava udì abbastanza da essere informato del carattere dei disegni delle persone la cui conversazione egli origliava da esser messo in grado di giudicar con maggior cognizione di causa la pienezza della furfanteria di rodolfo e la vera ragione della necessità della propria presenza in londra udì tutto questo e dell'altro udì derisa le sofferenze della sorella e la sua virtuosa condotta beffeggiata e brutalmente interpretata udì il suo nome passare di bocca in bocca e lei stessa divenire argomento di insolenti e tristi scommesse del più sfrontato linguaggio e dei più licenziosi motteggi l'uomo che aveva parlato prima teneva il mestolo della conversazione e la sosteneva quasi tutta non occorrendo gli altro che d'essere stimolato di tanto in tanto da qualche piccola osservazione dell'uno o dell'altro dei compagni a lui perciò nicola si diresse quando si fu abbastanza ricomposto per presentarsi innanzi al gruppo e pronunciare a stento le parole che gli uscirono dalla gola asciutta e ardente per piacere una parola signore disse nicola dite a me signore ribatte il baronetto mulberry hawk squadrandolo con sorpresa sdegnosa sì signore rispose nicola parlando con gran difficoltà perché la collera lo soffocava un forestiero misterioso parola esclamò il baronetto mulberry portandosi il bicchiere alle labbra e guardando in giro gli amici volete venire per qualche minuto in disparte con me o rifiutate disse gravemente nicola il baronetto mulberry si arrestò semplicemente nell'atto di bere e lo invitò o a dir che volesse o ad andarsene nicola trasse di tasca un biglietto da visita e glielo buttò innanzi sul tavolino ecco signore disse nicola questo vi dirà ciò che voglio una momentanea espressione di stupore non priva di qualche indizio di confusione apparve mentre leggeva il biglietto sul viso del baronetto di mulberry ma a un tratto egli si riprese e buttando il biglietto al pari federico verisoft che gli sedeva di fronte trasse uno stuzzicadenti da un vasetto di vetro e a tutto suo agio se lo portò alla bocca il vostro nome il vostro indirizzo disse nicola diventando più pallido a misura che il suo furore cresceva io non vi darò nell'uno nell'altro rispose il baronetto mulberry se in questo gruppo va un gentiluomo disse nicola guardando in giro e appena in grado di formulare con le labbra pallide e tremanti le parole egli mi dirà il nome all'abitazione di costui vi fu un silenzio mortale io sono il fratello della signorina che ha dato argomento alla vostra conversazione disse nicola io dico che costui è un bugiardo e un vigliacco un amico suo se qui c'è potrà salvarlo dalla disgrazia del misero tentativo di nascondere il suo nome cosa assolutamente inutile perché io lo scoprirò e non mi muoverò di qui se non l'avrò il baronetto mulberry guardò sprezzante nicola e volgendosi agli amici disse lasciatelo parlare io non ho nulla di serio da dire a ragazzi della sua condizione e in grazia della sua leggiadra sorella non gli romperò la testa anche se parlerà fino a mezzanotte voi siete un vile ignobile briccone disse nicola e il mondo vi conoscerà per tale saprò io chi siete e vi seguirò fino a casa anche se camminerete fino a domani mattina la mano del baronetto mulberry si strinse involontariamente sulla bottiglia e per un istante parve che volesse scagliarla sulla testa del provocatore ma egli se limitò a riempirsi il bicchiere e sorrise disprezzo nicola si sedette risolutamente di fronte al gruppo e chiamato il cameriere pagò il suo conto conoscete il nome di questa persona chiese al cameriere in tono ben distinto indicando il baronetto mulberry il baronetto mulberry si mise di nuovo a ridere e le due voci che avevano parlato sempre insieme fecero eco alla risata ma alquanto fiocamente di questo signore rispose il cameriere il quale senza dubbio sapeva come comportarsi e parlò appunto con tanto poco rispetto e appunto con tanta insolenza quanta ne poteva sicuramente mostrare no signore non lo so signore ecco qui esclamò il baronetto mulberry verso il cameriere che si ritirava conoscete voi il nome di questa persona il nome signore no signore allora lo troverete qui disse il baronetto mulberry gettando verso di lui il biglietto di nicola e dopo che l'avrete appreso buttate questo pezzo di cartoncino nel fuoco il cameriere sorrise e guardando incerto nicola trovò modo di aggiustare la cosa ficcando il biglietto nella cornice dello specchio sul caminetto dopodiché si ritirò nicola incrociò le braccia e mordendosi il labbro continuò a sedere perfettamente tranquillo esprimendo sufficientemente però a suo modo la ferma risoluzione di mettere a effetto la minaccia di seguire fino a casa il baronetto mulberry fu evidente dal tono con cui il più giovane del gruppo sembrava far delle rimostranze all'amico che egli trovasse da ridire sul metodo da questo adottato e che lo spronasse a soddisfare alla domanda rivolta gli da nicola il baronetto mulberry però che aveva bevuto parecchio e che era in una triste condizione di irremovibile ostinatezza fece tosto tacere le proteste del suo debole giovane amico e parve quindi come per non sentirle più che insistesse per essere lasciato solo comunque fosse il giovane signore e i due che avevano sempre parlato insieme veramente si levarono per andarsene poco dopo ed effettivamente andarono via lasciando l'amico a tu per tu con nicola si comprenderà facilmente che a uno nella condizione di nicola doveva sembrar che i minuti si muovessero veramente coi piedi di piombo e che il loro passaggio non paresse più rapido per il monotono tic tac dell'orologio o per il suono del campanello che suonava i quarti ma egli continuava a rimaner seduto e sul canapè di fronte se ne stava sdraiato il baronetto mulberry hawk le gambe sul cuscino e il fazzoletto buttato negligentemente sulle ginocchia finendosi la bottiglia di bordeaux con la massima freddezza e indifferenza così i due se ne stettero in silenzio perfetto per più di un'ora nicola avrebbe detto almeno per tre ore se non avesse sentito suonare l'orologio solo quattro volte un paio di volte egli guardò iroso e impaziente in giro ma lì nello stesso atteggiamento c'era il baronetto mulberry che di tanto in tanto si portava il bicchiere alla bocca e guardava distratto la parete come se fosse assolutamente ignaro della presenza di anima viva finalmente il baronetto sbadigliò si stirò e si levò si diresse freddamente allo specchio e dopo esserci si mirato si voltò e onorò nicola ad una lunga e sprezzante occhiata nicola gliela rese con molta buona volontà il baronetto mulberry si strinse nelle spalle sorrise beffardo sonò il campanello e ordinò al cameriere di aiutarlo a mettersi il pastrano il cameriere obbedì e poi corse ad aprire la porta non aspettate disse il baronetto mulberry e lui e nicola rimasero di nuovo soli il baronetto mulberry fece parecchi giri su e giù nella sala accompagnandoli con uno spensierato fischiettio poi si fermò per finire l'ultimo bicchiere di bordeaux che si era versato pochi minuti prima prese di nuovo a camminare si mise il cappello se lo accomodò innanzi allo specchio si infilò i guanti e infine si avviò lentamente all'uscita nicola che se n'era stato fremente e furente da sentirsi quasi folle balzò dal suo posto e lo seguì così da vicino che non ancora la porta aveva girato sui cardini dopo il passaggio del baronetto mulberry che essi stavano insieme l'uno accanto all'altro di fuori vera un carrozzino che aspettava un valletto in livrea aprì il grembiale e salto alla testa del cavallo volete dirmi chi siete chiese nicola con voce soffocata no rispose alteramente l'altro rafforzando il rifiuto con un'imprecazione no se voi fidate nella velocità del cavallo vi sbagliate disse nicola io vi accompagnerò sì vi accompagnerò anche se debbo afferrarmi al predellino sarete frustato rispose il baronetto mulberry siete un furfante disse nicola voi siete un facchino a quanto veggo rispose il baronetto mulberry sono figlio di un gentiluomo rispose nicola vostro è uguale di nascita ed educazione e credo superiore a voi in tutto il resto vi ripeto che la signorina nickelby è mia sorella volete sì o no assumervi la responsabilità della vostra trista e vergognosa condotta con un pari mio sì con voi no rispose il baronetto mulberry prendendo le redini in mano tiratevi da parte villano guglielmo lascia il morso no esclamò nicola saltando sul predellino nell'atto che il baronetto mulberry entrava nel carrozzino afferrando le redini badate che il cavallo non è più in mano del vostro servitore voi non ve ne andrete giuro che non ve ne andrete se non mi avrete detto chi siete il valletto esitò perché la giumenta che era un animale generoso e di razza scalpitava con tanta forza che appena si poteva reggere lascia andare ti dico tonò il padrone il servo obbedì l'animale si impennò e scalpitò come se volesse rompere il carrozzino in mille pezzi ma nicola sordo a ogni sentimento di pericolo e consapevole di null'altro che del suo furore stava ancora nel posto che aveva occupato tenendo strette in mano le redini non volete levar le mani volete dirmi chi siete no no queste parole furono scambiate nel minor tempo che la più rapida lingua potesse dirle e il baronetto mulberry accorciando la frusta ne colpì furiosamente la testa e le spalle di nicola essa si ruppe nella lotta e nicola si impadronì del pesante manico e con esso spaccò una guancia dell'avversario dall'occhio al labbro vide la ferita seppe che la giumenta si era slanciata ad un selvaggio galoppo mille scintille gli danzarono negli occhi e si sentì stramazzare violentemente a terra si sentì stordito e dolente ma barcollando si levò subito in piedi riscosso dagli strilli di quelli che correvano a precipizio e gridavano agli altri innanzi di scansarsi ebbe la sensazione di una fiumana di persone che trascorreva veloce guardando in su poté discernere il carrozzino turbinare lungo il marciapiede con tremenda rapidità poi udì un gran grido il tonfo d'un corpo pesante e un fracasso di vetri che si infrangevano e poi la folla si chiuse in lontananza ed egli non poteva vedere o udire più nulla l'attenzione generale era stata tutta stornata da lui alla persona del carrozzino ed egli era rimasto assolutamente solo considerando giustamente che in simili circostanze un inseguimento sarebbe stata una follia infilò un veicolo in cerca del più vicino posteggio di vetture essendosi accorto dopo qualche minuto che gli girava la testa come un ubriaco e che un fuoco di sangue gli scorreva sulla faccia e sul petto grazie a tutti